Musica E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui vi faccio vedere questo nuovo video delle grandi Ferrari F1 Siamo arrivati al numero 31 E c'è stata la F2008 di Felipe Massa Eccola qua Adesso direi di andare ad aprirla ragazzi E andiamo a vedere subito questo nuovo numero E questo nuovo modellino Andiamo a togliere la plastica e il cartone E come sempre Andiamo a vedere il fascicolo Le grandi Ferrari F1 Felipe Massa Ecco qui il fascicolo Ferrari F2008 Sorella diversa Scuderia Ferrari Varie informazioni da leggere Sulla macchina 2 novembre 2008 Gioia effimera Qui c'è la sintesi Ragazzi avremo Ragazzi avremo La 312 B3 di Clay Ragazzoni Del 74 Bellissima macchina Da avere Eccoci qua Adesso andiamo ad aprire il modello Andiamo a togliere il cartone Andiamo a liberare il modellino Togliamo le protezioni laterali Ed eccolo qua ragazzi Questo modellino Andremo ad aprire Nella seconda parte Già si vede che è una macchina Spettacolare Guardate qui Anche la parte di sopra Bellissima Bellissima